Buona la sua prova, decisamente sopra la media può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Ha inciso sul risultato finale andando a segno e contribuendo alla vittoria della sua squadra con una buona prova. Kai Walker, palla ancora lì. Occhio alla botta. Cerca il traversone. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Sale Walker. Prova a calciare. Alli. Baragna metri. C'è il tiro di Hurricane. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Rimette in mezzo. Palla che finisce sul palo, ribatte. È un gol che preme i loro sforzi, il loro gioco. La loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. Il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti. Ed ecco che è puntualmente arrivato. Non riesce a bloccare. Attenzione. Walker. Può far male da lì. E il pallone entra. E' un gol. L'allenatore gli ha dato fiducia e lui certamente non ha devuto. Non ha sbagliato. A tutta a tutta col potere al termine di un contropiede da manuale.